Ricorrano in gruppo. I poteri psichici attraverso Jane Roberts. Alcune caratteristiche dei sogni chiaroveggenti sembrano rilevarsi solo dopo uno studio attento. Da parte mia credo che i sogni chiaroveggenti ricorrano in gruppo. Se un sogno una notte contiene elementi chiaroveggenti, anche gli altri sogni fatti la stessa notte presentano le stesse caratteristiche.